La cura del patrimonio edilizio come azione concorrente alla gestione del rischio in aree urbane affette da frane a cinematica lenta in zone sismiche è stato il tema della giornata di studio organizzata da Federproprietà a Catanzaro durante la quale professionisti di settore hanno presentato dettagliati studi per la cura del patrimonio edilizio e l'adozione di strategie sostenibili di mitigazione. Il problema del rischio, la Calabria tra l'altro è una terra martoriata sia per i rischi sismici naturali questi ma anche per le frane, per i distesti idrogeologici e noi pensiamo che bisogna fare di più soprattutto come programmazione, come programmazione anche economica per investire i fondi e poter utilizzarli per garantire un territorio con un assetto assolutamente sicuro. In assenza di adeguati interventi di mitigazione il livello di rischio potrebbe non essere più accettabile. Il problema richiamato risulta di particolare impatto economico o sociale ed impone l'adozione di opportune iniziative da parte della comunità interessata. Le programmazioni si fanno non con il sistema dei vincoli lasciato là per decenni ma si fanno con gli interventi risolutivi, oggi le tecniche ci sono, i professionisti ci sono anche, quindi per noi sarebbe un modo per rimettere in moto l'economia che come sappiamo ha un ritorno anche economico maggiore di qualsiasi altro investimento. Il progressivo degrado del patrimonio edilizio e delle infrastrutture determina un incremento generalizzato della vulnerabilità del costruito e il rischio da frane a cinematica lenta aumenta nel tempo a parità di pericolosità dei fenomeni. Da questa giornata di studio emergono tante cose positive, che ci sono strumenti adatti, ci sono mappature fatte, abbiamo la possibilità di poter intervenire, bisogna vedere la volontà di farlo e le risorse economiche, perché forse a volte le risorse economiche ci sono e bisogna saperle però utilizzare, focalizzare, incanalare per poter risolvere quel problema.